Un film per gli azionisti. A Milano il ministro Tremelloni consegna la targa d'oro Ciriek per il film Relazione 1961 al presidente dell'Italcider, ingegner Mario Marchesi. Si tratta di un singolare documentario che illustra al pubblico e agli azionisti il bilancio della società. La stessa proiezione ha luogo nello stesso giorno in tutte le città in cui sorgono gli stabilimenti sociali. A Napoli il film è stato presentato dall'ingegner Madrigali, direttore generale del complesso di Bagnoli.